Gli strumenti poi amplificano molto, perché internet, se non ci fosse stato internet probabilmente non avremmo neanche assistito a questa esplosione di reazioni, c'è la pallina che rimbalza ed è inevitabile poi che ci sia qualcuno che dice delle cose assurde, come in questo caso. Certo, quando poi a dire le cose assurde sono responsabili di un certo livello dell'informazione, intellettuali o anche politici, la cosa assume una caratteristica un pochino diversa. Io però vorrei anche un attimo riportare sulla terra questa vicenda, perché questa vicenda qua è una vicenda che si è attribuiti dei significati a questa storia, che probabilmente non ha, perché la storia del lavoro perso e poi la reazione, questo era un signore, da quello che ho letto sui giornali, che si giocava al videopoker i soldi che dovevano sentire la famiglia, per cui questa è una cosa totalmente assurda, se vogliamo. Io, dopodiché, bisogna stare sempre molto attenti, perché col discorso abbassiamo i toni e non abbassiamo i toni, c'è anche il rischio poi che uno arrivi a dire e noi Mountain Farm. Noi, non ci hanno più. No, non ci hanno più. Grazie a tutti.